Salve amici, come vi avevo promesso qualche tempo fa, oggi vi farò conoscere Playa Cosone. Qualche metro prima dello svincolo per la playa troviamo lo stabilimento Inapa, che sarebbe il depuratore dell'acquedotto di Lasterrenas. Siamo arrivati a Cosone, una delle spiagge più particolari di Lasterrenas, una delle spiagge più belle di tutta la Repubblica Dominicana, che per merito della sua natura vergine e incontaminata attira turisti da tutte le parti del mondo che cercano relax e tranquillità. Playa Cosone dista dalla Lasterrenas poco più di 6 km, è priva di barriera corallina, quindi è molto più facile che il mare sia agitato e si estende per quasi 2,5 km. Qui ci troviamo invece alla foce del rio Cosone, ci troviamo in una parte naturalistica da brivido, veramente eccezionale. Secondo me è uno dei paesaggi naturalistici più belli che possiamo trovare nei pressi di Lasterrenas. Amici, qui in Repubblica Dominicana ogni giorno la natura vi assicura degli spettacoli incredibili, per esempio questi cavalli che si rinfrescano nel fiume dalla calura della mattinata. Alla mia sinistra, vi ricordate Punta Bonita? Amici, anche in un posto da sogno come questo, dove magari potete pensare che c'è solo spiaggia, palme e mare, troviamo strutture nelle quali possiamo soggiornare, come Casa Cosone. Venite con me! Amici, venire qui significa che dovete prendere il cervello, lo dovete lasciare in Italia, dovete lasciare tutti i problemi e vivere questo sogno, perché questo veramente è un posto fantastico. Amici, vi porto a vedere una stanza in modo che possiate capire cosa potrebbe essere la vostra vacanza qui. Amici, entrando, la prima cosa che si sente è il fantastico parquet sotto i miei piedi, perché si cammina sempre a piedi nudi, sensazione di super libertà. E guardate che vista meravigliosa avrete quando vi svegliate la mattina. Ragazzi, se veramente cercate un po' di pace e tranquillità, se volete staccare un po' la mente, se volete lasciare tutti i vostri problemi, se volete distruggere lo stress che oramai vedo, che in Italia è arrivato a livelli insopportabili. Questo è il modo giusto. Nell'hotel Casa Cosson troviamo anche il caffè Cosson Bar Restaurant. Venite! Amici, parlare di Cosson senza nominare Luiz è un sacrilegio. Chi è Luiz? Chi è Luiz? Eh, Luiz, venite con me! Hola Luiz, che mi prepari oggi da mangiare? Oggi ti puoi preparare la langosta, il pesce, il riso, le brigiole, il pulpo, i lambi, i gambari, di tutto. Langosta, ho i langosta. Ok. Amici, prima di mangiare noi facciamo sempre il controllo della qualità, eh! Amici, una delle cose obbligatorie che dovete fare quando verrete qui a La Sterrena, se in particolare a visitare Playa Cosson, è venire qui da Luiz a mangiare la ragosta, o se non vi piace la ragosta, il pesce appena pescato, ma passare comunque la giornata tra spiaggia e ristorante. Aspettando la ragosta, alla salute. Amici, naturalmente questo non è il piatto singolo mio, perché con me mangerà anche Clearcon, ma è solo per darvi un'idea di quello che vi aspetta quando arriverete in questo posto da sogno, in questa cartolina. Non mi resta che dirvi buon appetito e salutarvi. Ciao!